ah adesso lo vedo un po' così pepata niente della giotta lo stesso qualcuno... qualcuno solo deve mangiare non so l'iniziativa di spostarlo ma non riusciamo a beccare per entrare in questo tempo una alla volta, una alla volta spostiamo questo briccio ecco così una alla volta, via con questo giù con quello grande eeeh è andato sotto hai visto? guarda 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 pazzesco hai visto quel buccolato guarda un bucco enorme spostando il briccio di là guarda 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 Grazie a tutti.